Adesso è il momento del nostro approfondimento, del nostro Zoom, dedicato oggi alla rete degli ambulatori del weekend di Medicina Generale, un servizio innovativo in crescita che ogni settimana registra più di mille prestazioni d'accessi. Come funzionano, in quali casi ci si può rivolgere e che orari rispettano? Allora, lo abbiamo chiesto al medico di Medicina Generale della FING, Francesco Buono. Io invece mi fermo qui, dunque rimanete con il nostro Zoom e con la programmazione di Teleroma 56. Buona serata. Dottor Buono, gli ultimi dati nel vostro possesso evidenziano una crescita della rete degli ambulatori del weekend di Medicina Generale. Innanzitutto, per chi ancora non li conoscesse, vogliamo spiegare cosa sono? Sì, gli ambulatori di cure primarie o ACP, come li definiamo sinteticamente, sono degli ambulatori di Medicina Generale che durante i giorni festivi e il sabato hanno il compito di svolgere le funzioni che normalmente vengono espletate dagli studi dei medici di Medicina Generale che nel Lazio hanno ormai l'orario 10-19 nei giorni feriali e proprio per connettersi ad essi nel contesto di quello che si fa sempre più delineando come un sistema di cure primarie, mantengono infatti lo stesso orario. Quindi la tipologia delle prestazioni che vengono offerte sono quelle che riguardano le piccole patologie, e tutto quell'insieme di situazioni in cui si può trovare il paziente per cui non sia in condizioni di attendere l'orario di apertura in un giorno successivo o due giorni successivi del proprio medico di famiglia e in quel caso ha la possibilità di fruire delle medesime prestazioni presso questi ambulatori. Che servizi offrite e in quali casi le persone possono rivolgersi a voi? Beh, non so tutto chiarito che non sono strutture che hanno la pretesa di sostituire i pronto soccorso. Sono strutture a cui ci si può rivolgere per piccoli malesseri, febbri, mal di gola, tonsilliti, gastroenteriti, tutto quell'insieme di prestazioni tra cui anche la continuità terapeutica. Faccio un esempio, una persona che si trovi improvvisamente sprovvista della sua terapia cronica e non sia consigliabile per il suo stato di salute che lo sospenda, oppure che abbiano bisogno di prestazioni infermieristiche, quale può essere un'iniezione intramuscolare. E allora queste persone hanno la possibilità senza alcuna formalità e senza alcun ticket in quelle ore, appunto 10-19, di rivolgersi in questi ambulatori per ottenere la prestazione richiesta. Quali sono quelli che registrano un maggior afflusso? Dal punto di vista delle tipologie, diciamo, di prestazione erogata, sono le prestazioni che riguardano l'emissione o di documenti terapeutici o le prestazioni proprio di medicina generale. Non è neanche tanto raro che si rivolgano a queste strutture persone che per malessere sopravvenuto, magari turnisti, persone che lavorano il fine settimana o nei giorni festivi, abbiano bisogno di un'idonea certificazione medica per giustificare l'assenza dal lavoro. Quanti sono a Roma e nel Lazio? Abbiamo 20 ambulatori di cura primaria tra la città di Roma e la provincia di Roma, il Lazio in genere che sta cominciando ad ampliare questo tipo d'offerta. Credo che sia nei programmi della regione di ampliarli ulteriormente. All'interno di un ambulatorio del weekend che personale trova il cittadino ad assisterlo e chi lo gestisce? Allora trova tutte quante le tre tipologie di medici che fino a qualche tempo fa consideravamo separatamente, cioè i medici di famiglia o, come diciamo noi in termini tecnici, i medici di assistenza primaria, i medici di continuità assistenziale ex guardia medica e i medici dei servizi, che è una tipologia di medici che prestano servizi presso i distretti e le aziende sanitarie locali. Recentemente, con la definizione del ruolo unico, parliamo di medici di medicina generale già strutturati che appunto possono svolgere o esclusivamente una di queste tre funzioni eppure due di esse che sono tra loro competibili secondo determinate tipologie di ordinamento. È tutto gratuito? Cosa bisogna portare? È assolutamente tutto gratuito. Ovviamente è opportuno che il cittadino porti un documento di identità. Va sottolineato che è il cittadino che deve venire in prima persona, quindi non può delegare una persona ad andare per suo conto, anche perché verrebbe meno il criterio oggettivo del riscontro della situazione patologica e ovviamente il tesserino di iscrizione al servizio sanitario può essere utile per tutta una serie di cose. Non è prevista alcuna formalità, non è prevista alcuna prenotazione, non è previsto il pagamento di alcun ticket e possono essere nel corso, al termine di questa visita, possono essere anche emesse delle ricette con la stessa validità di quelle che generalmente emette il proprio medico di famiglia. In apertura abbiamo parlato di una crescita dell'affluenza. Quali sono i vostri numeri a riguardo? Siamo intorno agli 80.000 accessi e il dato è di tutto rispetto se consideriamo che la partenza è stata una partenza non omogenea ma per così dire sgranata, quindi si è iniziato con 2, poi 6, poi 10 e così via. Quindi la frequenza attualmente si attesta su una media potrei dire di 50-60 accessi per ogni struttura ambulatoriale. In che misura questa rete sta aiutando ad alleggerire i pronto soccorso? Qui occorre fare appunto un discorso preliminare. Come dicevo in apertura non si ha la pretesa di sostituire i pronto soccorso anche perché questo potrebbe portare anche qualche rischio per la salute. Il target degli ambulatori di cura primaria è quello di rivolgersi ad essi così con lo stesso tipo di tipologia di piccoli eventi patologici che si ha quando si va dal proprio medico di famiglia. Consideriamolo, giusto per usare un linguaggio, lo prendo prestito appunto dalla professione medica. Generalmente dico che come effetto collaterale e una volta tanto diciamo effetto collaterale positivo della messa in opera di questi ambulatori c'è che ne deriva un minore afflusso ai pronto soccorso per quelle che sono prestazioni che non sono, facendo un po' un gioco di parole, non sono da soccorso pronto. Sono situazioni che spesso e volentieri vediamo nei pronto soccorso, sono i cosiddetti codici bianchi o alcune tipologie di codici verdi, come dicevo prima, la faringotonsillite, la bronchite, il malessere intestinale, il calo di pressione, tutta una serie di situazioni per cui non c'è alcuna necessità di andare a pronto soccorso che invece o pronto soccorso o dipartimento di emergenza accettazione negli ospedali più grandi che hanno ben altro tipo di target per quanto riguarda la popolazione generale. Quali sono le vostre sfide guardando al prossimo anno? Cosa vorreste migliorare nel servizio che offrite? Beh, vorremmo innanzitutto estendere questa tipologia di prestazioni, vorremmo sempre più costituire un sistema di cure primarie perfettamente integrato con quello che a livello periferico negli studi dei medici è invece costituito dalle unità di cure primarie, è un po' un gioco di sigle, ACP gli ambulatori, UCP le unità di cure primarie. Cosa sono le UCP? Sono liberi associazioni di medici convenzionati, quindi sostanzialmente medici di medicina generale e nelle tipologie che dicevamo prima, per ora soltanto assistenza primaria ma a breve saranno coinvolte in questo UCP anche il personale della continuità assistenziale e della medicina dei servizi che tengono aperti gli studi, uno di essi che funge da studio di riferimento è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19. Unitamente agli ambulatori di cure primarie, che sono quelli di cui abbiamo parlato finora, si delinea un vero e proprio sistema che è la nostra ambizione di poter affermare in questa regione possibilmente anche come chiamiamolo benchmark a livello nazionale. Ecco, ha parlato poco fa di unità di cure primarie, in cosa si differenziano i due aspetti? Si differenziano perché le unità di cure primarie svolgono la loro attività durante i giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì compreso, sono un insieme coordinato di medici di medicina generale ognuno ha il suo studio perché giova a sottolineare che non si vuole assolutamente andare a toccare quello che è il rapporto individuale singolo assistito singolo medico perché il rapporto di fiducia per noi è un caposaldo irrinunciabile. Diciamo che lo scopo delle UCP è quello anche a livello periferico durante i giorni feriali di fare quello che fanno gli ACP nei giorni festivi e cioè di far modo che in quella fascia oraria un paziente del medico A se non ha la possibilità per qualche piccola urgenza o necessità improvvisa di attendere l'apertura dello studio del medico A può andare dal medico B il quale in questo studio di riferimento è sempre presente dalle 10 alle 19. Tutti i medici che fanno parte dell'unità di cure primarie compartecipano alla copertura di questa fascia oraria in questo studio di riferimento. Ecco, ormai siamo in piena estate, il tempo continua comunque ad essere variabile. Quali consigli si sente di dare per prevenire e non intasare quindi gli ambulatori? Beh, innanzitutto è scontato dirlo in giornate torride come questo di fare attenzione all'esposizione climatica avere presente che l'assunzione di liquidi anche se delle volte uno non sente proprio lo stimolo impellente della sete va mantenuto tra i due e i tre litri di acqua al giorno e il vestiario deve essere un vestiario adeguato a queste condizioni cercare di non uscire nelle ore più calde e avere un'alimentazione che sia consona a tutto quanto c'è quindi un'alimentazione che rispettando quella che è l'insieme dei principi alimentari che dobbiamo introdurre nel nostro organismo sia rispettosa dei tempi di digestione per chi si reca al mare, per esempio, non mi sforzo mai di sottolinearlo sia sempre rispettato un intervallo di circa due ore tra la consumazione del pasto e la pratica balneare che comunque raccomandate ed auspicabile.